Fiorella Mannoia è tra i 22 big del Festival di Sanremo 2017. Il suo brano a Che sia Benedetta è considerato da molti, il possibile vincitore della Kermesca Nora. In queste ore, l'artista ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair. Fiorella Mannoia ha sempre tenuto per sé la sua vita privata, centelinando le informazioni che la riguardano. È settimanale a chiarire l'identità dell'uomo che le sta accanto da più di dieci anni. Lui è un volto noto per chi ama la musica e, ancor più, per il pubblico di Canale 5. Secondo quanto riporta Vanity Fair, infatti, Fiorella Mannoia sarebbe sentimentalmente legata a Carlo Di Francesco, suo produttore e arrangiatore, nonché professore della scuola di amici. Parlando della sua situazione sentimentale, la cantante ha spiegato. L'amore c'è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo infelice, quando ne hai. Se il desiderio cambia dopo i 60 anni, le forze non sono più le stesse. Ma l'importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un'invenzione. La vecchiaia non esiste. Carlo Di Francesco è nato nel 1980. Fiorella Mannoia, invece, nel 1954. Tra loro, dunque, ci sono 26 anni di differenza. Ciò, però, non sembra rappresentare un problema. In un'intervista rilasciata a Corriere della Sera nel 2015, l'artista sottolineò come il compagno la facesse sentire speciale. Ho avuto storie molto lunghe e passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità. Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no? Forse da 10 anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Chi se ne frega.